Un nuovo caso accertato nelle ultime ore a Scanno che si somma ai tre registrati nella giornata di sabato, di cui due a Sulmona, una coppia di ventenni e un altro legato al centro della Valle del Sagittario, un settantenne. E questo è il bilancio del coronavirus nell'ultimo weekend d'estate in centro Abruzzo. Un'altra persona si è aggiunta all'elenco dei positivi, residente sul territorio comunale di Scanno, legata al focolaio dell'azienda agroalimentare di Sulmona. Si tratta del 192esimo caso registrato nel centro Abruzzo in questa terza fase dell'emergenza pandemica tracciato e individuato dalla ASL. I numeri insomma cominciano a scendere rispetto all'altalena dei contagi delle scorse settimane ma l'attenzione deve restare alta soprattutto in vista del rientro in classe. Quella che comincia è la settimana osservata speciale principalmente per l'avvio del nuovo anno scolastico in presenza contando di regole e protocolli che già stanno scombussolando la vita delle famiglie ma anche per la negativizzazione e l'assestamento dei primi focolai e la verifica delle entità dei nuovi fronti che si sono aperti come nel caso della cinquantenne di Sulmona ricoverata all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, un filone che non sembra legato ai focolai attivi che al momento conta tre positivi, la donna e la coppia di ventenni legati alla sfera familiare. Le situazioni da monitorare non sono poche, le risorse umane sono sempre più provate dei carichi di lavoro pesanti anche se tra i medici del distretto che si fanno volontari e il personale arrivato dal capologo di regione il rinforzo in quest'ultima fase se pur tardivo non è mancato. La buona notizia nelle ultime ore è arrivata invece per due giovani di Sulmona legati al focolaio della parrucchiera che dopo l'esito negativo al secondo tampone si sono liberati definitivamente della sorveglianza attiva. La mappa del contagio aggiornata sul Mona 97 casi, Bugnara 34, Pettorano sul Cizio 26, Prato la Peligna 9, Scanno 8, Intro d'acqua 5, Prezza 3, Pacentro 2, Corfinio 2, Vittorito 1 e Raiano 1 per un totale di 188 casi nell'area Peligna che si vanno a sommare i tre di pesca a serri a quello di scontrone quindi ai quattro dell'area sangrina per un ammontare complessivo di 192 casi nel centro Abruzzo. 8 pazienti covid sono ricoverati in ospedale anche se non in terapia intensiva quindi in condizioni pressoché buone 11 i guariti, 164 in isolamento domiciliare, un deceduto e 425 in sorveglianza attiva.